Altre tra il quarto incontro della serata, il referee Maurizio Angoscini. Sulla distanza di tre riprese da tre minuti, per la disciplina del Muay Thai, categoria meno 65 kg, all'angolo rosso con un record di otto incontri vinti su nove disputati per il team Pets Fighter di Bordiere, del maestro Aldo Rocca, Marco Panice, Rocca. Sulla distanza di tre minuti, per la disciplina di Bordiere, del maestro Aldo Rocca, di Bordiere, del maestro Aldo Rocca, 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 del ma grazie 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 Grazie. 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 Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!